giovedì 10 ottobre nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen iniziamo la nostra giornata affidandola all'amore di dio preghiamo insieme come gesù ci ha insegnato padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male ci si accompagna anche la vergine maria diciamo allora ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen il vangelo di oggi tocca ancora il tema della preghiera ieri gesù ha detto ai suoi discepoli come rivolgersi a dio chiamandolo padre oggi dice anche il motivo per cui rivolgersi rivolgersi a dio ogni volta in cui abbiamo bisogno chiedete vi sarà dato bussate vi sarà aperto cercate e troverete ecco gesù ci esorta a porre nel cuore di dio ogni nostro bisogno ogni nostra richiesta a mettere nelle sue mani tutte quelle necessità che si possono evidenziare dentro alla nostra vita e ricorda gesù che dio come un padre buono sa di che cosa abbiamo bisogno sa che cosa è necessario alla nostra vita e allora sarà lui nella sua infinita bontà nella sua infinita misericordia a darci ciò che ci è necessario ciò di cui necessitiamo a volte magari ci aspettiamo le cose come ce le siamo immaginate noi decidiamo già noi quello che dio ci deve dare ecco è lui che sa che cosa di che cosa abbiamo bisogno noi chiediamo noi domandiamo noi mettiamo nel suo cuore la nostra richiesta appunto come dicevamo ieri dentro ad una relazione siamo figli che chiedono al proprio padre quello di cui sentono più bisogno nel loro cuore e poi dio da padre padre buono saprà che cosa consegnare che cosa donare ai suoi figli dobbiamo avere questa speranza dobbiamo avere questo senso di fiducia profondo per poter vivere pienamente la preghiera perché una richiesta fatta tanto per fare rimane poca cosa una richiesta fatta con la pretesa di ricevere ciò che si vuole anche quella lascia insoddisfatti non rende felici ecco il modo più vero di chiedere a dio è quello di mettere nelle sue mani con la fiducia che lui saprà che cosa è importante fare che cosa è giusto fare in quella situazione in quella esperienza per quella persona e allora con questa intenzione desideriamo vivere il nostro pregare il nostro rivolgerci al signore e vogliamo così alimentare la nostra vita di fede quotidiana anche in quei momenti più semplici di preghiera che possiamo vivere personalmente perché ogni preghiera dalla più feriale dalla più personale privata a quelle comunitarie a quelle della chiesa che facciamo insieme nella comunità penso alle celebrazioni ecco che tutte abbiano questo scopo quello di mettere nel cuore di dio qualcosa nella certezza che lui solo lui saprà che cosa è giusto fare che cosa è giusto dare per ciascuno di noi suoi figli ci benedica dio onnipotente che è padre e figlio e spirito santo amen buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!